E gli anziani, le persone più fragili, sono tra le persone alle quali noi rivolgiamo maggiore attenzione. Il segretario generale Paolo Sant'Angelo così spiega l'impegno della Fondazione CR Trieste nei confronti della Casa di Riposo Domus Marie, concretizzatosi di recente nella ristrutturazione del primo piano della struttura di Via Madonna del Mare. L'intervento qui presso la Casa Domus Marie viene da lontano, un intervento che abbiamo avviato diversi anni fa in più lotti e è stato un piacere vedere i risultati che sono stati realizzati in questi anni. Dipinti i corridoi di un giallo tenue ma comunque vivace, le stanze sono state fornite di nuovi arredi secondo le norme di sicurezza vigenti. Sono stati ovviamente ristrutturati i servizi e già si guarda gli interventi futuri da effettuare di qui a poco, ad aprile partiranno quelli del secondo piano, nella casa che afferisce all'ente di culto San Giusto. Il prossimo intervento riguarderà tutto il secondo piano in due lotti separati e dopodiché la struttura è praticamente riqualificata. Provederemo poi ad adottare la struttura di un nuovo ascensore, un montalettighe che consentirà anche la possibilità di avere persone non autosufficienti nel secondo piano. La struttura e tutti gli spazi sono a norma, secondo la nuova normativa regionale sulla riclassificazione delle strutture per anziani e quindi contiamo di terminare i lavori in 12 mesi. Ripartita su tre piani, dotata di una cucina autonoma, Domus Marie può ospitare un numero notevole di persone. In questo momento 35, abbiamo l'accoglienza per 45 persone, però con i lavori di ristrutturazione alcune stanze sono adibite un po' a cantiere, quindi 35 ospiti in questo momento. Mettete un po' a cantiere un po' a cantiere un po' a cantiere, Grazie.